Grazie a tutti. Ciao, buongiorno a te. Allora, stamattina vorrei parlare di un argomento, credo, molto importante, che è il tema del rapporto che c'è tra la terza età, l'essere anziani, con il problema del rischio di suicidio. Insomma, anticipo alcune cose che mi vengono dal cuore, cioè l'invecchiare significa perdere, perdere qualcosa, che è perdere l'efficienza fisica, perdere le relazioni. Quindi c'è la solitudine, a volte ci sono delle difficoltà anche di tipo economico. Mi viene in mente, vorrei che tutti rondassero a rivedere quella meraviglia di film di De Sica che è Umberto D, che in qualche modo rappresenta molto bene il dolore di invecchiare. E spesso la solitudine di difficoltà che l'invecchiamento comporta. Ecco, tutte queste cose mi fanno dire, e credo in buon senso ce lo dice, che l'invecchiare espone l'essere umano a grandi dolori e conseguentemente lo espone anche al rischio di pensare che l'unica soluzione per uscire da questi dolori sia il suicidio. Volevo avere da te la conferma e parlare un po' di questo tema, credo molto importante. Sì, il tema è estremamente importante perché sembrerebbe esserci la tendenza nel normalizzare il fatto che andando avanti con l'età si perda la speranza, la voglia di vivere, si debba accettare in modo inesorabile un destino che porta a una perdita continua di vitalità in sostanza. E in questa connotazione dovremmo pensare che l'idea di voler morire in qualche modo non deve essere considerata come qualcosa da mettere né in preventivo né da comprendere e validare, bensì in qualche modo da combattere e prevenire. E mi spiego meglio. Innanzitutto il suicidio, come vi ho detto altre volte, nasce da una sofferenza che chiamiamo mentale, psicologica, morale, che dir si voglia e che attiene estremamente alle parti più intime del soggetto stesso. Spesso la disperazione, non avere aspettative future è fuoriero il rischio di suicidio in qualsiasi età. Nell'età più avanzata questo può essere un'area più critica che in qualche modo può essere trattata e migliorata. Ma ancora di più i soggetti anziani che pensano che la morte sia una soluzione sono quelli che si trovano spesso a che fare con la solitudine, con dolore fisico, mal controllato, con delle necessità, alle volte appunto terapeutiche di tipo somatico, che non sono state prese nella giusta considerazione. Quindi questo per dire che c'è un margine di trattazione e riduzione della sofferenza sia a livello mentale sia a livello fisico. E laddove questo viene attuato la voglia di morire si attenua di pari passo. E possiamo dare spazio a quella prospettiva e speranza che può appunto essere rappresentata anche nella senescenza. È ovvio che la solitudine e non avere il sostegno o comunque una rete sociale è qualcosa di estremamente temibile. Temibile che però può e potrebbe essere in qualche modo migliorato veicolando la prevenzione laddove gli anziani affluiscono maggiormente, cioè sui centri anziani, i centri di aggregazione, dove si potrebbe creare la comprensione, la consapevolezza che laddove si perda la voglia di vivere, laddove venga o emerga l'idea del suicidio, questo dovrebbe essere rappresentato a degli operatori della salute, della salute mentale, che in modo appunto sensibile possano farsi carico di questa sofferenza e quindi in qualche modo far superare la crisi. Questo ci porta a considerare che molte volte la determinazione dei soggetti che si approcciano appunto a un atto letale per via anche delle condizioni fisiche precarie troppo spesso porta a degli esiti che lasciano poco spazio alle possibilità di soccorso e quindi dovremmo agire in maniera molto propositiva proprio per evitare qualsiasi approccio all'atto letale che possa mettere a ripentare l'unità della persona. Ecco, pensavo a mia mamma che è morta a 102 anni e mi fa venire in mente che in realtà i grandi vecchi, i grandi vecchi, cioè quelli che superano ampiamente i 90 anni di età, oltre che avere probabilmente dentro di sé una voglia di vivere, però raramente mostrano, come dire, una suicidofilofilia. Ecco, la domanda che io ti faccio è quali sono, nel concetto di anziano che adesso si è spostato oltre i 70 anni, ma comunque nelle persone di una certa età, quali sono le età più a rischio? Perché mi sembra, ho fatto l'esempio di mia mamma per capirci, mi sembra che oltre una certa età il rischio diminuisca, non so come dire, però esiste evidentemente una fascia dove il rischio è più elevato, questo lo dico anche perché l'attenzione da parte dei caregiver o da parte di chi si occupa, diciamo dal punto di vista anche clinico di un anziano, credo che sia importante capirlo. Quali sono queste fasce d'età più pericolose? Ma in sostanza ci possono essere due grandi fasce d'età, non necessariamente l'una più protettiva o più a rischio dell'altra. Con il professor Amore facciamo degli studi sugli anziani, sugli uccidi degli anziani e negli ultra-anziani, proprio quelli che andavano a collocarsi in un'età estremamente avanzata. In realtà quello che possiamo vedere è che laddove ci sono degli elementi anche personologici importanti, questi non hanno età, non vengono attenuati dall'età stessa, bensì sono rappresentativi in qualsiasi frangente della vita. Per cui esiste un po' un continuum tra quelle che sono le variabili che espongono a maggior rischio di suicidio gli anziani e gli ultra-anziani, dove l'elemento di fragilità, solitudine, mancanza di sostegno, anche nell'ambito di patologie somatiche, mancanza di terapie adeguate anche in ambito di salute mentale, è qualcosa che va connotando un po' tutte le età anziane stesse, soprattutto perché si ha difficoltà ad accedere alle cure mediche, alcune volte, perché la persona essendo sola non viene condotta, non viene sostenuta, non prende l'iniziativa e magari si trascina nel quotidiano con delle sofferenze stesse. Quindi quello che giova a dire è che bisognerebbe rafforzare quanto più possibile le reti sociali e le comunità, dove bisognerebbe coltivare e costruire una cultura e della solidarietà e dell'attenzione per coloro che potrebbero avere bisogno, ad esempio vivendo sola nell'ambito di un palazzo, di un condominio, di un centro abitato, essere consapevoli, questo sarebbe questo termine, dei possibili bisogni anche non espressi, ma che invece sono pregnanti per la persona stessa. In questo modo si potrebbe fare una prevenzione molto puntuale e propositiva, che alle volte costerebbe anche poco. Ecco Maurizio, però mi viene da dire che la solidarietà non è una cifra stilistica dei nostri tempi. E quindi quello che tu dici, cioè il vicino di casa che va a bussare all'anziano, gli chiede Giovanni o Maria, come stai, no? Ecco, mi sembra che sia un qualcosa che succedeva di più in passato e che rischia di succedere sempre di meno oggi. Ecco, io mi domando che cosa possiamo fare? No, voglio dire, cioè a fronte del fatto che la rete sociale può essere diventare una pia illusione, nel senso che è un qualcosa che servirebbe ma non c'è. E conseguentemente mi stavo domandando se in un paese come l'Italia, dove la percentuale degli anziani è sempre più alta, dove, per esempio in Liguria, dove abito io, siamo la regione col più alto tasso di anziani, il 27,2% della popolazione è grandi anziani. Voglio dire, di fronte a questo qualcosa bisognerà fare. In senso lato, perché il suicidio è una delle, come dire, delle rappresentazioni e della fenomenologia dell'invecchiamento, non è certamente la principale, però la solitudine sì, la mancanza di reti sociali sì, quello sì, posso dire che è un problema diffuso, che poi, per fortuna, non tutti gli anziani sfociano in un tentato suicidio, in un suicidio riuscito, però resta il problema di base. Cosa si può fare, sinceramente? Allora, innanzitutto vale la pena ricordare, proprio per rendere il tema del suicidio, nell'ambito della prevenzione del suicidio, perché noi ci battiamo proprio per questo tipo di attività, che le persone che pensano al suicidio in realtà vorrebbero vivere, non vorrebbero morire, vorrebbero vivere senza la sofferenza che si portano dietro, e quindi attenuando quella sofferenza la persona sceglie di vivere. Questo, abbiamo detto, si può fare in vari modi, si possono fare varie manovre. Una cultura dove la solidarietà, l'attenzione per l'altro è in qualche modo carente, dovrebbe risentire di una prevenzione primaria tendente a sensibilizzare tutti, a scuotere un po' gli animi. Uno studio molto emblematico, che venne fatto ormai in epoca pre-nuove tecnologie, è quello del professor De Leo, che alla fine degli anni 90 fece emergere dei risultati, uno studio che avevano una sorta di telecheck, cioè un pulsante col quale potevano chiedere aiuto, era una popolazione di anziani, aveva un tasso di suicidio estremamente inferiore rispetto a coloro che non avevano questo dispositivo semplice, con un pulsante, diciamo, su uno semplice device, che tramite la linea telefonica chiamava, diciamo, appunto, un sostegno esterno. Ecco, la possibilità di accedere immediatamente a un sostegno, diciamo, di qualsiasi tipo, ma che dia un miglioramento alla sofferenza, fisica o psichica che sia, è l'elemento fondamentale. Quindi dovremmo anche fare delle campagne di sensibilizzazione per gli anziani, sugli anziani, cioè di dire se dovessi avere un bisogno, un pensiero, un desiderio di questo genere, guarda, chiama questo numero, guarda, rivolgiti a questo presidio, guarda, il suicidio si può prevenire, la sua sofferenza si può diminuire. Questa campagna di sensibilizzazione, che appunto può essere fatta con gli anziani, ma anche con i giovani, con altre sottopopolazioni, è fondamentale proprio per informare e dare l'opzione del chiedere aiuto che altrimenti la persona potrebbe non conoscerla oppure non averla a portare in mano. L'altra cosa sono i medici di base, che sono quelli che spesso vengono a contatto con la popolazione anziana e che non riescono a decodificare, ad esempio, il rischio di suicidio perché la persona presenta problematiche di dolenzie, di problemi non riconducibili immediatamente alla sofferenza mentale. e bene bisognerebbe in qualche modo creare una sinergia ancora migliore con la medicina di base. Sì, sono d'accordo, il tema dei medici di base è, come dire, trasversale all'età perché in realtà è un tema che riguarda gli esordi delle malattie mentali e per esempio e nel caso dell'anziano il monitoraggio di quello che sta dietro all'invecchiamento fisiologico e quindi cogliere il rischio che certe situazioni non vengano sopportate se non supportandole. E credo che effettivamente questo riferimento ai medici di medicina generale ai medici di famiglia sia estremamente importante perché io continuo più parlo con voi in questi incontri più mi rendo conto che è centrale la figura del medico di base del medico di famiglia del medico di medicina generale perché veramente senza come dire la sua capacità di cogliere le situazioni spesso lo specialista il super specialista può fare ben poco e questo credo che vada detto e molto probabilmente occorrerebbe trovare un modo di formare i medici di medicina generale proprio in questo senso non trovi Maurizio? Assolutamente sì questo vale per tutte le età per la sofferenza mentale unita a quella fisica per il suicidio e per altre condizioni di rilievo nella letteratura spicca il dato che il 45% di coloro che muoiono per suicidio è andato dal medico di base nel mese precedente l'atto letale alcuni altri lavori parlano di un intervallo ancora più breve per cui diciamo creare una sinergia nell'ambito della salute mentale con la medicina di base rappresenterebbe qualcosa di estremamente a favore della prevenzione del suicidio lottando anche con le difficoltà che spesso vengono annoverate c'è sia affluenza del ridotto slot di tempo per ciascun paziente eccetera ma alcuni elementi salienti dovrebbero essere veicolati a tutti e magari anche il poco può rendere il molto su questo sono totalmente d'accordo credo che dovremo parlarne molto come psichiatri di questa collaborazione per dare l'importanza che hanno non per come dire demandare un compito che dovrebbe essere nostro perché è sbagliato dire così in realtà il compito del medico di base è di cogliere non è di curare perché poi ci può essere lo specialista che cura cioè il professor Pompili è disponibile però deve essere avvertito se no non lo può mica sapere cioè questo lo dico per chi ci ascolta cioè noi non stiamo dicendo che deve far tutto il medico di casa però il compito di accorgersi delle cose è più del medico di casa che del professor Pompili che magari il paziente non lo conosce certo certo assolutamente dai alla prossima Maurizio grazie grazie